Ciao a tutti, sono Antonio Lazzini, istruttore Spartan SGX. Oggi parliamo del bucket carry, il trasporto del secchio con le nuove regole. Allora, andiamo giù. Andiamo in secchio, quindi nuova regola, il secchio non deve superare l'altezza, la linea delle spalle. Possiamo prenderlo qui in questa posizione qua, in bear hug, oppure in poteto, così in questa posizione. Le cose da non fare sono, spalla, trasporto sulla spalla, dietro sul cuorlo e sopra la destra. Quindi, assicuratevi di impire bene il secchio, quindi ci saranno dei buchi che non escono dalla luce. Bello pieno, una bella montagnetta, così quando rientriamo la cosa più ci pare da fare è svuotarlo tutto. E poi niente, alla prossima, ciao!